L'Italia in questo momento storico sta vivendo delle sconfitte mortificanti sul piano economico e politico. Ma cari telespettatori, questa nostra Italietta sta vivendo un'altra subdola ma devastante sconfitta che è culturale, sociale ed umana. Questa sconfitta si chiama Casa del Grande Fratello, ovvero quella trasmissione televisiva che è imperversa sui nostri schermi e che ci fa vedere una umanità giovanile, triste e malinconica, contagiata dal narcisismo e annegata nel mare della superficialità. La Casa del Grande Fratello è una casa senza dignità, senza cultura, senza sensibilità. Casa che assomiglia molto, tantissimo, ad una grotta di uomini primitivi genuflessi ad esaltare, ad inneggiare alla miseria del proprio ombelico. Ma questa offensiva Casa per fortuna non rappresenta, non racconta la vera storia dei giovani italiani, anzi la falsifica. I giovani italiani sono ben altro, sono giovani che costruiscono il loro lavoro, la loro esperienza, il loro futuro sull'amore, sulla passione e sulla competenza. I giovani italiani e soprattutto i nostri giovani siciliani amano la vita anche se la vita spesse volte li ferisce e li feriscono, sono giovani che sopportano. Infatti, pensate, cari amici di Babele, su 107 province italiane, la provincia di Agrigento è al centunesimo posto per investimenti sul lavoro giovanile ed è al centoduesimo posto per acquisto libri e per attività culturali. E malgrado queste terribili offese di Stato, i nostri giovani siciliani amano pronunciare ancora parole dall'alto contenuto etico come pace, fratellanza, passione e soprattutto sogno. Malgrado tutto e tutti, i nostri giovani siciliani resistono, i nostri giovani siciliani resistono con grande consapolezza, con grande passione. Per adesso è tutto, a voi buona vita, alla prossima puntata.